Ben tornato Gutier, ben tornata. Torniamo a parlare del sistema operativo, in particolar modo del pannello di controllo. Come detto in questa lezione torno a parlare di una sezione molto popolata del sistema operativo chiamato pannello di controllo. Cos'è? Il pannello di controllo. È la console generale, il centro di controllo, la stanza dei bottoni, l'area di comando, insomma il punto nevralgico del sistema operativo. È l'interfaccia grafica tra l'utente, quindi te, e la parte software, il sistema operativo. Tra l'altro è la sezione più corposa e più importante dal punto di vista dell'uso e delle impostazioni. In questa sezione puoi davvero far di tutto, entrare nel cuore, anzi diciamo più in profondità, nel DNA per ciò che riguarda l'aspetto e le funzionalità di Windows. Ti permetterà di prendere visione e manipolare, più o meno correttamente e naturale, le impostazioni di base del sistema operativo, aggiungendo o rimuovendo ad esempio dispositivi hardware oppure programmi per renderlo più adatto alle tue necessità. Una nota a cui devi porre attenzione però. se non acquisisci perfettamente la cognizione d'uso, almeno di alcune sezioni di questo pannello di controllo, quelle più delicate, potresti creare problemi di funzionalità del sistema operativo stesso, per cui sii ne cosciente. E se devi eseguire delle prove, cosa devi fare? naturalmente utilizzare la virtualizzazione. Ma come si può accedere al pannello di controllo? Un metodo è quello di cliccare sul pulsante Start, successivamente si aprirà il menu nel quale individuerai il pulsante pannello di controllo e ci cliccherai sopra. Se eventualmente non dovesse esserci questo pulsante non ti preoccupare, puoi sempre cliccando su Start, potrai digitare all'interno di questa sezione pannello di controllo e vedrai che già dopo i primi caratteri ti comparirà in alto in questa zona proprio il pulsante del pannello di controllo. dovrai cliccarci sopra e si mostrerà il pannello stesso. L'opzione appena descritta di ricerca può essere tra l'altro replicata per cercare qualsiasi programma o file all'interno del computer e renderti più rapida l'individuazione di file specifici. Cosa vedi una volta che accedi al pannello di controllo? Innanzitutto troverai la possibilità di visualizzare il pannello di controllo in tre modalità. La prima possibilità è visualizzare le sezioni del pannello di controllo suddivise per categoria, per tipologia, oppure suddivise per icone rappresentate a dimensioni grandi o rappresentate a dimensioni piccole. La prima possibilità, come detto, è visualizzare per categorie e quindi avrai in visione più o meno questa schermata per cui ogni sezione sarà raggruppata per tipologia di categoria. Qual è la limitazione di questa visione? È che non potrai vedere immediatamente tutte le sezioni che compongono il pannello di controllo. Le categorie così evidenziate saranno quelle che riguardano il sistema alla sicurezza, oppure l'account udente per l'accesso a Windows e la protezione in ambito familiare, oppure la categoria relativa alle impostazioni di rete e di internet, o quella di personalizzazione dell'aspetto visivo del sistema operativo, oppure quella della gestione hardware e dei suoni del sistema operativo, o anche l'orologio e le impostazioni internazionali per modificare alcuni di questi parametri, oppure la gestione dei programmi e l'accessibilità al sistema operativo. Ogni categoria, come detto in precedenza, dovrà per forza di cose avere delle sottocategorie, delle sottosezioni al cui interno compariranno tutte le sezioni del sistema operativo, ma non è l'unica possibilità di visualizzare le opzioni, le sezioni del pannello di controllo, tant'è che esiste, come detto, la possibilità di visualizzare la rappresentazione grafica in icone grandi o icone piccole. Questa è proprio la metodologia che utilizzo, in quanto ho la possibilità di visionare tutte in un'unica schermata le sezioni del pannello di controllo. A te la scelta, quindi, in base al tuo piacere, se utilizzare l'uno o l'altro tipo di visualizzazione. La lista delle sezioni contiene delle voci che sono comuni tra i vari sistemi operativi, ma alcune saranno ben diverse, sia in base alla versione, sia in base anche ai programmi che avrà installati. Ti cito un esempio. All'interno del mio computer ho installato una scheda grafica della NVIDIA, per cui troverò all'interno del mio pannello di controllo un software dedicato a questa scheda grafica, che naturalmente potresti non trovare tu, oppure trovarne un'alternativa se naturalmente non hai una scheda grafica NVIDIA. Eccoti rappresentata graficamente la visualizzazione per icone grandi. Come puoi ben vedere, il numero di sezioni è molto corposo. Ed eccoti srodolata la lunga lista delle sezioni. Potrai gestire l'accesso al sistema operativo, oppure gestire parametri relativi all'audio, o ancora gestire l'avvia automatico di eventuali periferiche o dischi inseriti nel computer. Cosa importantissima, la sezione dedicata al backup e ripristino qualora si presentino dei problemi, la personalizzazione della barra dell'applicazione del menu start, oppure la gestione dei caratteri del sistema operativo stesso. Altra sezione importante, il centro connessioni di rete e condivisione, che ti permetterà di interagire con le connessioni che ha il tuo computer. Il centro operativo per la notifica di eventuali messaggi. O altra cosa importante, se hai dei figli, il controllo genitori, per rendere più sicura la navigazione e l'utilizzo del tuo computer. Altra cosa importante è la criptografia unità Bitlogger, che in realtà è un'opzione che ti permette di inibire eventuali accessi indesiderati a file o sezioni del tuo disco rigido. Andiamo avanti con le sezioni, la sezione relativa a data ed ora per poter variare questi parametri, oppure interagire con i dispositivi stampanti, variare la visualizzazione dei gadget del desktop o la gestione dei colori del monitor, oppure la gestione dei dispositivi installati sul tuo computer, l'acquisizione e la gestione di un gruppo home che hai visto quando abbiamo creato una rete di condivisione, gestire le aree di notifica nella Sistray, quindi ricordo quella in basso a destra vicino all'orologio, l'impostazione di lingua di Windows, ma non ci perderemo molto tempo in quanto naturalmente la lingua è già preimpostata in fase di installazione, le impostazioni di mouse oppure quelle relative alla cartella in termini di visualizzazione, opzioni di indicizzazione dei file presenti all'interno del sistema operativo del disco rigido per una più rapida ricerca, oppure ancora le opzioni di sicurezza e di uso di alcuni parametri della navigazione di internet, o ancora le opzioni di risparmio energia per poter decidere se risparmiare consumi o disinteressarti magari a fronte di una miglior prestazione del sistema operativo e del computer, altre sezioni relative al paese e la lingua e in particolar modo alla personalizzazione del sistema operativo. Altra sezione importante è quella che ti permette di visionare le prestazioni del sistema operativo, l'uso dell'hardware e ancora la gestione di programmi e la loro funzionalità che ti permetterà poi di variare alcune impostazioni interne al sistema operativo e alla disinstallazione dei programmi stessi. Scegliere quali programmi possono essere utilizzati per avviare un determinato file, esempio classico quello dei file multimediali, una foto, un'immagine, un video o un audio mp3, puoi decidere di utilizzare un programma anziché un altro. Altra sezione importantissima è il riprissino del sistema operativo qualora si presentino dei problemi oppure in termini di problemi avere indicazioni di massima grazie a un'indicazione guidata che ti permette di eseguire delle operazioni per tentare in maniera autonoma di risolvere dei piccoli problemi. Ancora gestire le impostazioni dello schermo o quelle del sistema operativo in particolar modo le impostazioni avanzate del sistema operativo. Abbiamo poi la sezione strumenti di amministrazione che sarà ben importante per quel che riguarda la gestione dei dischi e dei servizi in uso del sistema operativo stesso. Vuoi variare dei parametri relativi alla tastiera? C'è la sezione relativa. Oppure vuoi impostare e attivare i programmi di sicurezza Windows Defender e Firewall che ti permetteranno di ridurre o eliminare la contaminazione da malware o accessi indesiderati al sistema operativo ed infine la sezione relativa agli aggiornamenti del sistema operativo che la Microsoft saltuariamente emana. Eccoci all'interno del mio desktop. Vediamo brevemente come poter accedere al pannello di controllo. Una possibilità come detto è cliccare sul pulsante Start. Successivamente si aprirà un menu e cliccando sul pulsante operativo al pannello di controllo potrai accedere al pannello stesso. Come puoi vedere la visualizzazione attuale è per icone grandi. Se vuoi puoi ridurre la dimensione delle icone cliccando sul pulsante visualizza per icone piccole oppure variarla e suddividerla per categoria. Come vedi la riduzione del numero di icone è drastica. All'interno di ogni categoria ci saranno delle sottocategorie per cui questa categoria potrebbe essere utile se sei molto esperto nella individuazione delle varie sezioni altrimenti è consigliabile come tra l'altro io stesso eseguo la visualizzazione più completa dalla quale potrai accedere direttamente alle singole sezioni. Vedremo in seguito che ogni sezione poi al suo interno avrà altri pulsanti per poter variare le impostazioni del sistema operativo. Chiudiamo e vediamo altra possibilità di accedere al pannello di controllo. Nella sezione cerca programmi e file puoi tranquillamente scrivere pannello di controllo dopo qualche carattere come puoi vedere comparirà la scritta pannello di controllo un collegamento che ti permetterà cliccandoci sopra di avviare appunto il pannello di controllo. Questa strategia la potrai utilizzare per ricercare qualsiasi programma o file presente all'interno del tuo computer. Vediamo come poter avviare ad esempio il programma Word. Scrivendo la parola Word comparirà il collegamento relativo che ti permetterà poi di avviare appunto il programma in oggetto. Allora ti rimando alla prossima lezione per descrivere alcune di queste sezioni del pannello di controllo. Ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima!